Do work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job Siamo con il mister della Vigor per Conti Andrea Persi al termine dei quarti di finale vinti dai Blaugrana 2-0 contro l'Atletico Gallo Mister, avevate già ipotecato il passaggio in semifinale all'andata, oggi ennesimo passo in avanti verso questa semifinale Sì, però credo che in partita di questo livello bisogna sempre tenere molto alto il livello di attenzione perché il livello è alto C'è molta qualità, loro sono una squadra atletico, Gallo è una squadra importante, ci hanno di qualità molto importanti Sono uno di qua comunque, come è normale che sia, cercare di ribaltare il risultato E quindi non è semplice, soprattutto sotto l'aspetto della gestione All'inizio gestire loro nell'approccio alla gara È un approccio molto importante che bisogna avere a questi livelli perché non si può concedere, magari prendi un gol nei primi dieci minuti Viene riaperto tutto e quindi bisogna stare sempre con il livello di massima allerta, massima attenzione Adesso si rigioca sabato la semifinale Puglia o Calabria, innanzitutto è arrivata la notizia? Non lo so, non mi hanno detto niente, non avevo idea Come si gestisce adesso queste poche ore che vi separano dalla semifinale, anche vedendo il caldo e soprattutto andando in un ambiente abbastanza caldo come i campi del sud? Eh ma certo, quando si arriva a giocare una semifinale nazionale significa che sono rimaste le migliori quattro d'Italia Quindi le partite sono di altissimo livello Dobbiamo recuperare l'energia fisica e mentale in pochi giorni, noi come loro Quindi è un aspetto che riguarda tutte e due Noi cercheremo di recuperare al massimo sotto aspetto mentale e di prepararci a questa nuova partita